Cari ragazzi, la parola estinzione sta a indicare la totale scomparsa di una determinata specie. Le cause possono essere molteplici, i mutamenti climatici, l'avvento di una specie concorrente o l'azione dell'uomo, spesso il nemico numero uno della natura. Con i nostri comportamenti sbagliati abbiamo negli anni distrutto habitat e zone ricche di biodiversità. Per questo l'Italia, dal 1980, ha aderito insieme ad altri 183 stati alla CITES, la Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e fauna minacciate d'estinzione. I carabinieri forestali del raggruppamento CITES sono quotidianamente impegnati per la prevenzione e il contrasto dei reati contro il patrimonio naturale in pericolo. Questo calendario rappresenta quindi un'opportunità in più per conoscere i temi legati alla conservazione e allo sviluppo dell'educazione ambientale. Avete capito ragazzi? Siete proprio voi giovani i nuovi custodi di questi habitat meravigliosi, pieni di colori e di vita. Per migliorare il nostro futuro è importantissimo conoscere e rispettare la natura.